Restauro della Dogana, ora il comune di Avellino accelera. In mattinata è stato consegnato il cantiere. Il sindaco festa parla di giornata storica e promette che entro la fine del 2023 saranno ultimati i lavori. In pochi giorni partirà il cantiere e anche i primi interventi. Devo dire che questa è una bellissima notizia per la città. La Dogana rappresenta uno dei monumenti storici di maggiore rilevanza insieme alla torre dell'orologio. e sono estremamente soddisfatto per me e per la mia amministrazione per questo inizio dei lavori. Abbiamo dato come deadline di fatto alla fine del 2023, ma al di là di dicembre o di gennaio a febbraio l'importante sarà anche ultimare questi lavori prima del termine del mio primo mandato. Il progettista Giovanni Multa ripresenta come sarà la nuova Dogana, un grande spazio aperto multifunzionale. Un luogo che finalmente ritorna alla disponibilità dei cittadini di Avellino, dei giovani non solo per costruire questa eredità storica che quindi diventa il tema più importante, penso, da molti punti di vista e con delle funzioni che andranno man mano a far vivere questo luogo. Abbiamo questo spazio del teatro della Dogana e questo luogo a tutta altezza, illuminato dall'alto che può ospitare moltissime manifestazioni, moltissimi eventi, carattere sociale, culturale e non solo. In più c'è questo punto nuovo di vista del rooftop in alto che diventa una novità, un plus del progetto.